Saluto Gossip News, spero di rivederci presto e ci vediamo prossimamente, non ve lo dico dove. L'arrivo della stagione estiva ha messo di buon umore l'extronista Marcello Fuentes. Mi piace l'estate ma penso che un po' a tutti quanti, il caldo ti dà un'energia ben diversa da quella invernale, un'energia più positiva e che c'è bisogno, in questo momento c'è bisogno direi. Nella vita del bel sudamericano, negli ultimi mesi ci sono stati diversi cambiamenti. Le novità ci sono, ma lo sapete già. Come va l'amore? Bene, bene, bene. Dalla scorsa primavera Marcello fa infatti coppia fissa con la bionda Sofia Bruscoli, anche se per ora i due hanno cercato di mantenere un certo riservo sulla loro relazione. Cercate di tenervi un po' lontani. 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 Grazie a tutti